Dottor Ferrari, oggi siamo qua con lei perché ci sono delle novità rispetto all'assistenza che la nostra sanità riesce a dare alle disabilità, in modo particolare alle disabilità negli adulti. Ecco, c'è proprio un cambiamento di filosofia, che cosa è successo in questi ultimi anni? Assolutamente sì, vi ringrazio per essere qui. Dal 2016 circa abbiamo cambiato un po' il modo di lavorare nelle disabilità. Prima si pensava e si faceva un approccio più o quasi esclusivamente riabilitativo. Oggi, in età adulta, pensiamo di più al progetto di vita, cioè pensiamo a come fare per accompagnare le persone con disabilità ad avere quelle possibilità di vita che abbiamo tutti noi sul lavoro, per quanto riguarda le attività sociali, gli amici. Quindi, attraverso un progetto di sostegni finanziato, nella cosiddetta logica del budget di progetto, cioè l'interessato mette le sue risorse, i servizi pubblici mettono le risorse, i servizi appropriati su quella situazione, cerchiamo di accompagnarlo a fare con questi sostegni quello che senza questi sostegni non potrebbe fare. Ecco, un approccio quindi diverso. C'è anche una certa progettualità che deve essere sviluppata, cioè presentare le proprie aspirazioni da parte appunto delle persone che hanno queste patologie. Certamente sì, il tutto si fonda sulle loro aspirazioni, la cosiddetta loro autodeterminazione e sulla loro condizione di bisogno. Sostanzialmente, nell'ambito dei progetti finanziati che nell'area delle disabilità adulte sulla Spezia comportano un impegno importante di circa 4 milioni di euro, abbiamo sostanzialmente 4-5 linee di lavoro. Abbiamo la possibilità di costruire progetti finanziati per la cosiddetta vita indipendente, oppure se la vogliamo chiamare da autonomie sostenute, per le persone che funzionano un po' meglio e che hanno una chiara autodeterminazione in termini di progetto di vita. Abbiamo una linea per le disabilità gravi, per le disabilità gravissime, cioè sostanzialmente persone quasi allettate o allettate in condizioni molto grave, che però vogliono continuare a vivere al domicilio e non entrare in una struttura. Abbiamo anche una linea, anche un finanziamento che si chiama Meglio a Casa, temporaneo, per le persone che magari entrano in un ospedale in una condizione di completa autonomia, ma ne escono non completamente autonomi, con necessità per essere sostenute al proprio domicilio. Noi come servizio, insieme ai comuni e ai distretti sociali, nella cosiddetta integrazione sociosanitaria, e in equip miste che si chiamano proprio integrate sociosanitarie, lavoriamo per costruire questi progetti e per finanziarli. Dottore, parliamo di numeri importanti in termini di pazienti che rientrano in queste categorie? Per fortuna direi parliamo di numeri importanti sui progetti e sui finanziamenti. Purtroppo parliamo di numeri importanti anche su questi problemi, che sono problemi che possono essere alla nascita, congeniti o possono anche essere acquisiti nel corso del ciclo di vita, per via di fatti traumatici o per via di patologie neuromuscolari acquisite, e sono molto numerosi. Fortunatamente lo Stato mette a disposizione un fondo, che si chiama Fondo Strutturato, quindi stabile, che si chiama Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, attraverso le regioni, e le regioni finanziano queste linee progettuali che vi ho descritto attraverso i distretti sociali, cioè affidano ai distretti sociali, regioni viguri affida al distretto sociale, un budget che può essere utilizzato per costruire questi progetti finanziati. I progetti finanziati, le persone che ne hanno titolo, diritto, che hanno le caratteristiche elettive, che lo vogliono, possono essere richiesti presentando domanda presso i distretti sociali. Ecco, i distretti sociali, l'azienda sanitaria in modo particolare, quella spezzina, ha rapporti con queste persone, cioè ci sono momenti di interlocuzione, di visite? Assolutamente sì. Quindi c'è possibilità di raggiungerli anche per spiegargli un po' queste cose, oppure magari lo avete anche già fatto? Allora, nel momento in cui il cittadino chiede una linea di finanziamento e di progetto tra quelle che ho descritto, questa domanda viene valutata sul piano dei requisiti di tipo amministrativo, ISEE e altro, ma anche sui requisiti clinici, se esiste o non esiste una disabilità e quanto grave sostanzialmente, da un'equip mista di operatori di ASL, del Servizio Sanitario Nazionale, che sono prevalentemente educatori, assistenti sociali, ma anche personale specialistico, psicologi, fisiatri, psichiatri, e quest'equip mista è assistenti sociali dei comuni e dei distretti sociali. Questa equip, nel momento in cui ci sono i requisiti e c'è un progetto possibile, delibera il finanziamento e il finanziamento a quel punto arriva nella disponibilità degli interessati o dei loro amministratori e viene utilizzato per come è stato definito il piano assistenziale. Ovviamente poi il cittadino ha anche il debito di rendicontare all'amministrazione pubblica, in particolare al distretto sociale, se e come e se ha utilizzato quei fondi così come aveva concordato con i servizi. E di norma devo dire che c'è anche molta adesione, c'è anche molto senso di responsabilità dei cittadini nell'utilizzare questi fondi perché comprendono che sono fondi che sostengono il loro bisogno e la loro vita. Quindi c'è anche molta serietà da parte del cittadino di norma nell'usare questo denaro. Ecco dottor, un'altra domanda che mi viene è un po' questa. Lei ha parlato di 4 o 5 linee di intervento. Alcune possono avere quell'autosufficienza e quindi la capacità anche di gestire le proprie pratiche, le proprie attività. Ci possono essere anche linee di intervento invece con persone che hanno maggiore difficoltà. Come possono comunque aderire a questa opportunità che viene data con le difficoltà in più di uno che ha meno mobilità, meno dimestichezza con i personal computer. Da questo punto di vista c'è un sostegno ulteriore da parte dell'Asla anche per accedere ai fondi. Allora, nel momento in cui una persona ha difficoltà ad accedere ai fondi, come anche a pensare al proprio progetto di vita, noi di Norma lavoriamo molto anche con le famiglie di queste persone e anche con i loro amministratori di sostegno, che sono figure nominate, che in molti casi esistono, ci sono, nominate dai tribunali per poter accompagnarli, fare domanda, ma anche poi nel venire qui da noi a valutare le condizioni, a definire il progetto di finanziamento, perché queste sono tipicamente quelle situazioni di cronicità dove il lavoro comincia ma non finisce. Quindi noi queste persone le conosciamo, i progetti li costruiamo, li rivediamo costantemente, rivediamo anche il piano finanziario dei progetti, monitoriamo che siano efficaci e che quindi la situazione al domicilio vada bene, vi facciamo visite domicili, li andiamo a conoscere, anche a verificare con i loro assistenti, quindi c'è un rapporto costante con noi. Quindi qualsiasi difficoltà abbiano nel presentare la domanda, nell'ottenere una linea di finanziamento, si rivolgono a noi, al servizio disabili adulti di ASL5 e noi li accompagniamo in tutto, anche per fare una domanda di amministrazione di sostegno o altro. Bene, lo scopo di questa trasmissione è di far conoscere appunto queste opportunità che vengono date. Allora, ovviamente attraverso questa trasmissione potranno appunto apprendere che è possibile chiamare il centralino e chiedere dei vostri uffici per prendere eventualmente un appuntamento. Esiste anche un sito internet, un luogo diciamo così telematico, informatico dove si possono apprendere appunto queste opportunità? Certo, sul sito di ASL5, sul portale di ASL5 sostanzialmente sono descritti tutti i servizi, compresi i servizi sulla disabilità e al riguardo in particolare volevo appunto informare la popolazione che recentemente sul sito di ASL5 e nella sezione bandi avvisi troveranno un avviso che è uscito sostanzialmente su un finanziamento messo a disposizione da Regione Liguria riguardante la possibilità di avere un contributo per l'acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali. Quindi una persona che ha una disabilità tale che gli consente ancora lo svolgimento di attività sportive e ha bisogno di uno strumento, un ausilio adattato che gli consenta di svolgere questa attività, non so, correre anziché giocare a pallacanestro o altro, può accedere al sito ASL, scaricare questo bando, presentare il proprio ISEE e con un'indicazione di uno specialista chiedere la possibilità di vedere finanziato questo ausilio. Ecco dottore, insomma in conclusione ci sono delle opportunità che devono, che possono e devono essere sfruttate perché si possono intravedere delle condizioni di vita assolutamente migliori. Vogliamo fare anche un incoraggiamento, insomma, non tergiversate perché ne va della vostra qualità della vita e quindi da questo punto di vista anche un invito, insomma, ci sono risorse che possono essere spese, approfittiamone perché appunto ne va della qualità della vita individua. Assolutamente sì, qualità della vita è il termine chiave, non può essere riservata solo alle persone normotipiche o normodottate che hanno tutte le loro possibilità per potersela conseguire in autonomia, qualità della vita anche per le persone con disabilità. Per questo si parla di progetto di vita, per questo ci siamo impegnati a costruirlo insieme alle persone che chiedono di essere seguite, di finanziarlo insieme alle risorse che hanno, aggiungendo quelle che i servizi si possono mettere a disposizione, peraltro da questo punto di vista la provincia di La Spezia credo sia abbastanza avanti perché la legge quadro sulla disabilità e decreti attuativi di questa legge del 21, del 2021, decreti attuativi appena pubblicati l'ultimo del mese scorso, prevedono proprio che dal 2025, cioè al prossimo anno, una persona con disabilità possa formalmente chiedere all'amministrazione pubblica, sociosanitaria, di avere un progetto di vita finanziato. Quindi credo che noi siamo già piuttosto avanti con questo tipo di pratica, di buona pratica, credo che questo sia un buon servizio per il cittadino e per la qualità della vita delle persone con disabilità. Dottore, grazie. Ci auguriamo che questa trasmissione sia stata utile, rimane comunque il punto di riferimento, l'ASL in via 24 maggio e i tre distretti sociosanitari che sono in grado di fornire tutte le informazioni. Grazie davvero. Prego, ringrazio io e voi per la trasmissione. Grazie.